Padova, rapinata e spintonata, mentre stava tornando a casa ancora una volta nel mirino dei ladri gli anziani padovani, una settantenne residente in via Berti, è stata assalita da un ragazzo che l'ha buttata fuori di casa e spintonata. La donna è caduta a terra sul pianerottolo ed è rimasta lì fino a quando non è arrivata la polizia. Nel frattempo il ladro ha svaliggiato la sua casa rubando tutti i gioielli e scappando dalla finestra.